La palla. Prendi la palla. Per caso hai visto la palla? La palla volo. La palla volo è il mio sport preferito. Non sono bravo a pallavolo. La palla canestro. So giocare a pallacanestro. Preferisci la palla volo o la pallacanestro? Grazie. Il giocatore. La giocatrice. Sono una giocatrice di calcio. Sono un giocatore di pallacanestro. Amo tantissimo la pallavolo. Ieri ho giocato a pallavolo. Il calcio. Il calcio. Il calcio è lo sport nazionale in Italia. Vado a giocare a calcio. La partita. È stata una partita fantastica. C'è la partita di calcio in tv. Il campo. Mamma mia, questo campo è grandissimo. Fare gol. Segnare. Segnare. Sì, ha fatto gol. Gli azzuri hanno segnato. Guardiamo la partita della Juve. Vorrei tanto giocare sul campo di San Siro. Buona fortuna. Ragazzi, buona fortuna per la partita di oggi. in bucca al lupo. I bucchia lupo. Grazie a tutti. In bocca al lupo, Marco. Crepi. Grazie. E viva il lupo! Avete la partita oggi? In bocca al lupo! Tocco ferro. Tocchiamo ferro. Buona fortuna con lo studio dell'italiano. Grazie. 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 Grazie.